Ma però ci tenevo, ci tenevo come a partecipare, comunque a dare il mio contributo a questo programma che mi ha dato tanto e che ho dato tanto. Io ringrazio il direttore generale, Carlo Treccero, direttore della RAI, va bene, è direttore, è direttore, lo sapevo perché è direttore, è direttore della RAI, Carlo Treccero perché è una persona che stimo tantissimo, un grandissimo professionista e lo voglio ringraziare personalmente, come voglio ringraziare personalmente Fabio Diorio, quando ci siamo visti qualche giochi fa in RAI e tutte le persone che li vogliono bene. Sono felice di riabbracciare tutti e sono felice di far parte di questa grande famiglia. Adesso, adesso è qua a viaggio, il giro, la mano di Londra. Allora, io solo due cose, sono felice e contento di partecipare a questa nuova edizione, contento perché accetto proprio la sfida che ha lanciato Treccero, è una sfida. Medin Sud ha un successo straordinario, tutti sappiamo i grandi numeri che ha fatto, quindi non è facile, è un'impresa difficile che la abbracciamo e speriamo di inizierla. La cosa più bella che vedo è questa nuova edizione, con entusiasmo, con entusiasmo come se fosse la prima edizione. Ho ritrovato un sacco di amici e questo è veramente un bel medin Sud. Tutti gli amici, ci vogliamo bene, ci vogliamo una tattica, tutti gli anni rappresentiamo Napoli in tutto il mondo, perché giriamo anche all'estero e quindi è una sfida che accettiamo volentieri, con l'entusiasmo, con la voglia di rincipienti. Quindi vino nel sud. Grazie.